Grazie a tutti. Grazie. 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 e poi chiede il rimborsa, l'investimento di finanza per le somme dell'80000 e dell'azione sociale della Russia e della Russia delle porte restate con il 2008. E poi, queste azioni verso l'investimento di finanza non hanno nessun valore, diciamo, per ossacolare questo argomento di finanza e se di nuovo all'iniziativo non hanno potuto mandare gli altri accorti destituzionali, perché gli altri accorti destituzionali potrebbero essere mandati da tutti gli accorti destituzionali. Però, la risposta negativa o la sua risposta per il genere di finanza, che dovrebbe rispondere entro un altro giorno dalla Russia che lo ha disegnato, la mia istanza di rimborso, mi autorizza a rivolgermi alla... Mi autorizza a rivolgermi alla Commissione Tributale di Progato. ... 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 Invece, in questo modo, con questa, diciamo, richiesta di preferenze, una delle autorità, si tratta di due condizioni religiose in incertità. Invece, in queste condizioni religiose, non è che non tratteremo questa solidificazione di colui che si mette in un certo modo, come quando facciamo le elezioni militari, dove in altri non iniziamo la nostra simpatia, il nostro consenso a un certo Stato senza parole esposte. Quindi, in realtà, bisogna di più una persona, perché la prima che prendiamo, vogliamo mettere in tutto quello, quindi, da i nostri dati analoghi, le nostre antitagattie, i nostri rapporti del lavoro. Per cui, potrebbe essere benissimo percepitate, quindi è accaduto a quelli di Rano, della Finanza di Rostegale, e quindi di Rostegale, dopo un'invento di Rostegale, sono stati del divino dei quei integralisti cattolini, agli accortisti che hanno provocato, come una casa, una paura, molto vecchia, che prendono in difficoltà. Abbiamo avuto anche un altro caso, dove, dove una professoressa che insegnava in un entito un astolto, forse che, diciamo, sposata con Vittor Rostegale, è stata ingerciata. E così via. L'articolo terrestre, dell'articolo 7, dice, dalla razione, che lo Stato italiano è un indipendente su un anno rispetto all'altra, rispetto alla Chiesa Cattoglia, e la Chiesa Cattoglia diventa su un anno rispetto al Stato italiano. E l'articolo 3 dice che l'indipendente, 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 che ci dò, una situazione che sorge all'articolo 53 della Costituzione. L'articolo 53 della Costituzione dice che tutti sono obbligati a contorzare la Chiesa Cattoglia. Ora, quando io prendo quella parte che si fonde e le vettino a beneficio della Chiesa Cattolica, io cattolico, le vettine, le vettine, che si fanno a beneficio della Chiesa Cattolica, non concordo alle stesse che hanno stato fatto con i soldi che sono rimasti da lui. Io c'ho a beneficio della Chiesa Cattolica, però quando lo Stato comincia a finire, o per l'armamento, come se si è risultato e vuole questo, o per aiutare i popoli che la cattolica e la cattolica ai quali non diamo i calciarmati che si sente un certo ordine di cattolica, o per la guerra del conto, o per l'aiuto a Sant'Amossegna per poter, diciamo, mantenere l'autoporto di vita e poter impompare un po' di petrolio. Questi sono gli interessi dello Stato, ma anche di quelli che hanno fatto il rivolto alla Chiesa e che fanno la beneficiaria, diciamo, dell'utilità, di che sono usati la Chiesa per esigenza internazionale, la Chiesa per esigenza, la Chiesa per esigenza, anche di una necessità di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. la tratellare, sono dei temi individuali, non possono essere imporsi di un'attività 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 di un'attiv caro Presidente del Consiglio Andreotti, quindi Andreotti, lui guarda il tetto della carità cristiana, attimenda proprio caso, re terzo mondiale, mantiene lui, re terzo mondiale, non faccia questa sua, per fare il cameriero o il corso, anche al sud, beh è una cosa, con l'oltre, un signore di interità di deputato, lui fa una bella efficienza assumendo il suo dato, eppure gli italiani sono anche i test mondiali, perché l'ipotesia è massimo, e non si accorde anche se lo è giusto. Ora, dunque, con l'attivo di questa detenzione, una violazione dell'ottico, che tutti si trovano ancora, secondo le percorte, perché i caporti hanno fatto distratti, hanno fatto distaccare tutta la parte, non posso dire, non posso dire, non posso dire, per quelli che hanno firmato per la capola che hanno fatto distaccare la parte del loro riputo a cronarare, che ha rotto, un signore dell'attivo di Stato e l'attivo di Stato, e che lo Stato si utilizza nell'interdizione di Stato e l'attivo di Stato, e che lo Stato si utilizza nell'interdizione di Stato l'attività, in concreto, diciamo, per cattolini, per tutti i loro autogadini, la loro palestina. I cattolici non parlano, parlano da loro, perché? Invece, i colori che hanno la ruota e che loro toglie dallo Stato sono operati due volte. Perciò, questi e perni, che hanno, perciò che erano le due sede di una sorta di risultato che sono organizzati dallo Stato. L'altro. Mi ritorno all'articolo 75 secondo il terzo somma della condizione. perché questa qui non è contattiva dice che a me si prevede ma non si prevede il risultato è il risultato ora la teglia di questo rendimento è il risultato è il risultato e allora questo diciamo il risultato è fatto per alcuni da alcuni da quelli che fanno non da tutti è fatto il sorprendimento non coinvolta tutta la popolazione ma coinvolta è stato un risultato economico in questo modo io lo provo che non gli ammette il sorprendimento perché sarebbe la realtà non lo ammette perché la contabilità non è un fatto di punta dove ci sono quattro essi messi sui comune sui tecnologi sui portori e ognuno si prende quello che vuole la contabilità sia familiare sia dallo Stato è un futuro è un po' non si può scendere non si può scendere una parte è un'altra parte una parte è un'altra scuola per capire scendere in due tre diciamo bilanci scendere in due tre bilanci quindi che fanno i bamborossieri da una parte si può produrre e da un'altra parte è un'altra scuola accanto dell'impresa con conti con il bilancio che sono preguiti da me e lo stesso a questi due avanti con qualcuno che lo bomba della verificazione quando dice che l'impresa deve essere approvato dalle camera dalle camera il trattore il mio si è in corso dell'impresa ora mi domando io come si può approvare un bilancio che deve essere tutte le imprese tutte le imprese quando una parte dell'impresa è stata trappata corso via è stata a l'impresa non si esiste l'impresa senza nessuna non si esiste a dare un risconto ovviamente in questo grande che è meglio questa parte di un'impresa questa parte non si esiste ma al posto questa che è diciamo lo spirito di questo già nel modo come è esistito questo bilancio che è ancora la cittura di un'impresa da quelli di un'impresa di un'impresa io posso dire questa parte di un'impresa non 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 dico come è stato spesso in questo momento che è stata data alla città ma la città delle città delle città delle città o qualcosa che deve interessare tutta la comunità non è che vorreste che non so se quanti voi non lo faccio vorreste ma se c'è qualcuno che ha il tempo e la capacità che la città di farvi esserlo vorreste e sapere come se la città di la città di questo posto a conoscimento poi al principio ho fatto la propostitazione di oggi in serato basta per circa i principi dovrebbero prendere la complessità pubblica tutte queste delle scienze di vivi nella decisione che sono in effetti corruzione elettorale altra animale qui se dovrebbe affinare in quanto sento se il servizio del polso penale perché non è vero che la base è solo quella che è stata che ha il servizio del settore ma anche quelli che diciamo col senato subito corrompono gli elettori ingannano gli elettori che fanno totale per l'armi che forniscono al momento i soldi a dei lati che si appartano di principi cartaziziali che si chiama ora solo che ho scato questo ricordo che sulla parte di carta bollata che si chiama più altrimenti vedranno che si chiama la regola di carta bollata poi si è integrata come stato pochia con il mio strato quando completato per la macchina poi si è preguita meglio di controllo forzato certo di inietà contenzione aumentando le stesse di gole e carattere la carta bollata è stata bollata carattere tutti i chiama non carta bollata come ora insieme a questo ricordo io ho presentato la richiesta di età di età di età bollata e di apportamento col precedente ricordo la scelta che stanno troppo i titoli di butanti sono operati di ricordo di un po' per il mio che ha considerato il mio e il quale è passato nelle retenti e questo diventi anche di farsi chiedere in questo per esempio il valore della moneta di età per cui non sono attaccoggiati ho dopo il percorso alla politica di totale per distanza di età più che è di apportamento col piacere di per cosa questo è in atto quello che potremmo quello che potremmo si vuole non cosa 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 se volete diciamo suggerire qualche cosa al meglio poterà che ovviamente se abbiamo per esempio diversi difficili di dati possiamo fare il gioco ai casi di problemi per altro passi di bocca la cosa è motivato bene diciamo appoggiato intanto diciamo politicamente per essere che sono rispondi almeno per quello che ha fatto la parte di lontanale quanti persone che faccono meglio rimpolpare veramente quello che studi molti cambi interi molto elementali questo fatti che una massa di ricordo faccia considerare meglio la cosa che solitamente far farete un solo cosa far farete un mio gatto al moneta che sono contene alla cosa funzionale per fare rollare per tutti ma per venire avrete un passaggio mi dico perché staspetto che andrei a recuperare non mi convenzo delle spese di carta appollata ci sono 120 mila lire 120 mila lire più altri 120 mila chilometri mila di po' che non recupererete per quello che mi ritorna ma è una questione di libertà di onestà che non m m m m m m m Grazie. 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 Sono professionale, perché sono professionale, ma ho visto che mi sono interessato, in un tuo tempo era arrivato dagli avvocati, ero arrivato dagli avvocati per cercare di sinistra, per cercare di avere consigli, e quasi un radicale, un vassigliante del Stato radicato che mi hanno buttato fuori. Quando io ho cercato di normali, nella terza giudizia, in Vene, in Palermo, come cercano la scelta dell'impattatura statale, del sicuro agenziale, sempre un volta abbracciato. Io ho trovato, non so che il contorosino, il contorosino, il contorosino, di un'altra carica, però, io ho deciso di fare un'intenzione di andare avanti. Adesso mi sono accorto, ma almeno ho avuto una questione, perché il consiglio non è più, che c'è un anteciutto serio, molto difficile, certo? Per esempio, la prima richiesta che ho fatto, non è più, ma anche questo è quello che abbiamo lasciato il consiglio, poco su se il consiglio. Adesso, vogliamo. Perché, ma non parliamo di progettura, non mi spiega anche a questo, per esempio, se sono due anni che sto portando avanti per una rossa contro l'escitazione, è una cosa Grazie. 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 Se si vuole razzare per rinforzare, purtroppo più le cose che ce la fare è quella di combattere questo disciato sanziamento alla Chiesa. Grazie a questa facoltà dei signori della politica di lancire con tutti, la politica manda senza discizzare qualche po' agli amici cittadini, a quello che poi portano a elezioni, con i voti dei messaggi, dei morti spani, dell'incersione mondiale. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie. 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 e poi le diciamo che loro fanno i figli e si è un po' e si è la funzione del mio figlio che ha problemi con qualsiasi? Con qualsiasi problemi? A chi? Ai comuni molti figli che hanno scontato e fanno i figli che poi entrano la figlia e lo faranno i paesi e vanno a levare i ragazzi prendono le ragazzine di 30, 40 anni che vengono scufruate per pagare i figli e poter andare a domandare i ragazzi perché la loro cultura bisogna rispettare bisogna rispettare la loro cultura e poi la volontà del desiderio di volontà fanno bene e si satisfanno con fuori facendo fare tra l'altro, continuare con l'altra, continuare con l'altra con qualsiasi problemi questo è ora, per i ragazzi, per i ragazzi, per i ragazzi non siamo ragazzi non è che da una storia mondiale era una decisione mondiale sono altri che volevo entrare a creare delle strutture a servizioni allo Stato questo è il paese e ancora, per i ragazzi, per i ragazzi se ci sono dei valori abbattanti che lo Stato abbia raggiunto non si accerete a una chiesa perché? se siete nelle comunità che sono e vogliamo vedere che si chiede lo spazio di quella comunità e dimostri come aspetti i soldi per dare, diciamo, una nuova cultura una nuova diventata ma di raccoglio lo dobbiamo fare alla Chiesa con i soldi, no? la Chiesa è continuata a creare come singoli perché così potrà dominare che stanno stanno in un secolo di Dora anche in questi fili io contengo quando quando si proponeva un po' di sull'asso di sull'asso e di sull'asso e di sull'asso e di sull'asso e di sull'asso a prendere in considerazione l'uso della fila e l'aspetto di bianco dopo la carità è bene che faccia la fila è bene che poi in questa sala poi è la cazzo di qui e la foglia fa nobile di Dora questa è la cosa faccio che poi abbiamo quelli che possiamo diciamo gli altri saranno a prendere il demoglio con dire che sono necessari ma la delinquenza che c'è la delinquenza che c'è il campato porta dalla Chiesa perché le nostre certamente non sono le cose di Dora il Papa con il campo di Chiesa che si fotografavano che si dava franzene però e con il Chiesa un altro un bambino e le Chiesa li fa figli come degli animali fino a quando la Chiesa avrà il culto degli animali uomini degli animali che farforiscono e poi non si sa come lo sarebbero più e poi si faccia le torni davanti che non ha sento qualche solito o qualche animali che gasta delle strutture paracinate e poi attività un ministro napoletano che non danno abbastanza propria la Chiesa da un palco di un miliardo in mezzo costruito per una tua bomba questo è il nostro facciamo fare le altre dobbiamo costruire lo Stato a fare le nuove e le nazionali per tutti e anche se i propri questi sono i volontari questi sono i volontari ma non dovrebbero avere niente dovrebbero essere veramente i volontari sempre quando noi facciamo il fatto degli agenti si parla del conto samaritano che il passa prima un genita che sarebbe il sacerdote si guarda a passare passa un altro il boccio di passare un altro molto importante della comunità ebraica guarda quello che è stato raffinato e passa ora passa il samaritano che erano gli uomini più giù dell'aradio della comunità ebraica si prende con questo verso oro e vinto sulle che venite lo porta da un'osso gli dà gli uomini adicolo lui e che avesse che avesse più agli uomini si rinforcerò non non puoi insegnare la vita e l'altro per rinforzare le cartelle lo sostegno tutti in pro ora questi volontari che vogliono essere affrontate dallo stato vogliono essere fatali per il centro e questi sono dei altri sono a un certo livello dei mafiosi che vivono in tua protezione se tu mi fai questo libro ti fa verificenza se tu mi fai questa è la realtà che dobbiamo creare delle strutture alternative a una spesa ad avanzare cristiana e una no se dobbiamo creare delle efficienze in certe qualità dobbiamo dobbiamo nostri parlamentari a salvare la legge non la legge del volontario ha una legge che dica allo stato certi persone si fa fare agli famigli queste spese per questi motivi e prende conto che questi sono assunti perché quando lo stato da la chiesa non pretende le cose non lo sappiamo cosa Grazie. 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 che forse lo risuono a pochissimi per fanno stare fuori questo è l'esame dunque, non è questione che non si non si lega uno di chiama scuola non si lega uno di chiama scuola è l'esame che ha trance scuola scuola allora ho chiamato una 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 perché noi siamo su un passato una di una di una se io facendo una persona io non devo essere lo stesso c'è un'altra e c'è anche per cui il mio ultimo principale per cui noi non stiamo scuola non stiamo e perché se deve essere da tutti da tutti da tutti non può essere tramite la gente di lo strato a tutti da me che non si fa 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 ognuno di noi deve se vuole se non vuole conseguire dire non si fa 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 e quindi per questo secondo la nostra opinione noi in una battaglia che ci vediamo diverse mani per tutte le altre in cui diciamo che si fa ma non si fa però non abbiamo questa è la base che ci fa poi le considerazioni che non sono le persone che i soldi non vanno a vedere perché non si fa non si fa non si fa considerazioni poi abbiamo fatto quello che avete detto c'è fatto il video della scelta una battaglia principale che ci fa la libertà che ci fa la libertà che ci fa diciamo che come fondamento e ci fa la libertà quindi non ci vediamo di se non ci vediamo ma non ci vediamo che non ci vediamo anche che non ci vediamo ma come tutto io ho detto che è importante che è importante che se volete voglio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.